Ci aggiorniamo. Attraverso il video di oggi vengo a disvelare la mia opinione a proposito della cosiddetta frase Ci aggiorniamo. Ecco, è una frase che spesso e volentieri viene detta, viene enunciata da parte di una persona nei confronti di un'altra o di più persone nel momento in cui ci si va a salutare. Ok, buona giornata Manuel, allora ci aggiorniamo, ci aggiorniamo a domani, ci aggiorniamo al prossimo giorno. Ci aggiorniamo alla prossima settimana. Quel ci aggiorniamo in realtà occulta, in realtà nasconde una voglia di non farsi più presenti, non farsi più vivi. Ci aggiorniamo, ci aggiorniamo. Sì, ci aggiorniamo a lunedì. Arriva il lunedì col cazzo che Filippo si fa vivo con Gennaro. Gennarino se la prende nel culino, va bene? Ecco, io molto spesso sento questa frase. È una frase per accomitarsi, per accomiarsi, no? Per congidarsi. Io mi congelo da un'altra persona, da un altro essere umano, da un amico, da un'amica, gli dico ciao, alla prossima. Oppure ci aggiorniamo. In realtà quel ci aggiorniamo significa non ci vediamo più, ce la prendiamo nel culo. Chissà quando ci vedremo, ok? Questo perché? Perché si preferisce di gran lunga dire una cosa del genere, ci aggiorniamo, per far sperare a quell'altra persona che effettivamente parlando ci sarà la possibilità di rivedersi. In realtà quel ci aggiorniamo significa non ci rivedremo più, oppure ci rivedremo tra tot tempo. Quando poi arriva quel tot tempo, ecco che non si verifica più l'incontro che era stato programmato, che era stato stabilito, che era stato, diciamo così, creato o meglio organizzato già da prima, programmato già da prima, va bene? Ecco, io vedete questo trovo assurdo in quelli che sono i rapporti umani. Questa frase, queste due parole, di fatto, de facto, non vengono a aiutarci, ma vengono a venirci in culo, ok? Ci danno in culo, va bene? Detto in maniera diretta, concreta e non astratta, autentica. Perché? Perché è un modo per dire non ci rivedremo più, non ci rivediamo più, oppure ci rivedremo solo quando io voglio che ci rivediamo. Ci aggiorniamo. Allora ci aggiorniamo, quante volte sentiamo una frase del genere, formata da solo due parole, due parole che possono avere un significato autentico, ma che in realtà non vogliono dire un accidente di niente, ok? Ecco, questo è il mio punto di vista, questa è la mia mera opinione. Quel ci aggiorniamo occulta, nasconde in realtà. Ci rivedremo chissà quando, chissà tra quando. È un modo dolce, è un modo semplice, simpatico per dire ci rivedremo, ma chissà quando ci rivedremo. È una frase fatta, è una frase che non ha valore, è una frase che non va a disvelare cose buone, è una frase che va ad occultare in realtà una voglia per dire, una volontà per dire a quell'altro, sì ci rivediamo, ma in realtà non ci si va a rivedere. È più facile, è più bello, è più semplice dire ci aggiorniamo, al posto di dire non ci rivedremo più, oppure dire guarda ci rivedremo quando lo vorrò io, e chissà quando sarà quel momento, quella voglia, quel tempo, ok? Quindi tutto questo si traduce de facto, di fatto, in una, chiamiamola, situazione in cui abbiamo una persona, un essere umano che vuole proporsi, vuole farsi vedere, no? Ma che in realtà grazie a quel ci aggiorniamo, ottiene come risposta, ci aggiorniamo, tutto là, finisce là, il discorso nasce e muore là, si estingue là dove si crea, ok? Quindi quel ci aggiorniamo in realtà nasconde una voglia di non rivedersi più, e o chissà tra quanto altro tempo. Da Leandro, il conoscitore italiano di YouTube Italia è tutto, mi raccomando iscrivetevi a questo canale, e l'ultima domanda che pongo a voi, avete mai detto ai vostri amici, parenti, familiari, e chi più ne ha più ne metta, ci aggiorniamo? Ci aggiorniamo Manuel, ci aggiorniamo Filippo, ci aggiorniamo Carmine, ci aggiorniamo Guido, ci aggiorniamo Amo Antonio, ci aggiorniamo Christian, ci aggiorniamo Leandro, in realtà quel ci aggiorniamo, c'è la, un non rivediamoci più. È un modo dolce per dire non ci rivedremo più. Da Leandro è tutto, iscrivetevi, mi raccomando, commentate, al prossimo video, una buona giornata a voi.